Buongiorno, buongiorno dalla redazione di TV6, finisce il mese di agosto, in questo venerdì 31, agosto che ci lasciamo dunque alle spalle e lo facciamo come sempre iniziando questa giornata in vostra compagnia e accompagnandovi nella lettura delle pagine dei quotidiani locali e anche nelle prime nazionali. Iniziamo la nostra rassegna come sempre dalle prime dei quotidiani locali e siamo subito sulla prima pagina del centro, edizione di Pescara, strada parco, il degrado non si ferma, a Pescara pedoni e ciclisti trappali pericolanti, erbacce, buche e rifiuti. Poi sotto la testata nel centro della capitale crolla il tetto della chiesa strage sfiorata a Roma, a accordo con il De Magno 20 minieri abruzzesi diventano parco turistico. Scendiamo a centro pagina la fotonotizia con il capitano del Pescara, Gaston Brugman, che ha visitato la redazione del centro. Brugman si racconta, io l'Uruguay e la Serie A con il Pescara. E poi di spalla Champions League, i sorteggi bene Juve-Roma e dura per Napoli e Inter. Ieri a Monte Carlo i sorteggi dei gironi di Champions. Poi ancora collegamento dal fine ottobre, dall'Abruzzo a Bucarest riparte il volo. Poi ancora a Pescara il sindaco, così ricordo mio padre Alessandrini. Ieri un convegno proprio per omaggiare il ricordo del magistrato Emilio Alessandrini. A Montesilvano, mensa scolastica, servizio affidato a una nuova ditta. E poi ancora sotto la fotonotizia leggiamo vicini rumorosi, denunciata l'Ater, i condomini di un palazzo di via Moro si rivolgono alla procura, troppo baccano. E poi il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il lavoro stanca eppure le vacanze brevi. Proseguiamo e andiamo sull'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, frana la collina, il viadotto fa paura. Allarme a Chieti, crepe, buche e fossi sul cavalcavia di via Gran Sasso. E poi ancora la fotonotizia, al via le feste di settembre a Lanciano, giocattoli e campanelle a Lanciano, c'è la fiera di Sant'Egidio. E poi a Chieti una piazza per l'ex sindaco Buracchio, a Vasto, topi in centro, esche sabotate dai vandali. Nozze in ritardo, gli sposi citano il comune, a Ortona l'addetto di Palazzo Corvo fa aspettare la coppia, chiesti 5.000 euro di danni. Edizione terramana del centro, ecco il titolo d'apertura, furbetti del sisma, chiesto il processo. La procura accusa 20 terramani per i contributi presi illegalmente. E poi la fotonotizia al centro, le addette alle pulizie delle scuole di terramane, stipendi arretrati e futuro incerto sit-in di protesta delle bidelle. E poi ancora, sempre a Teramo, ancora una volta la questione ponti che resta sempre attuale dopo la strage di Genova. Ponti, servono 7 milioni per sistemarli a Teramo. E poi proteste a Sant'Omero, solo un panino ai ricoverati dei hospital. A Giulianova, assalto al gazebo leghista, giovani incappucciati rovesciano la struttura in Piazza del Mare e fuggono. Andiamo a chiudere con il centro, con l'edizione aquilana. È tempo di consuntivi per la perdonanza. La perdonanza incassa 10 milioni. Il bilancio economico del comitato spesi 350.000 euro. E poi la fotonotizia. Inferno sull'autostrada in salvo camionista di Trasacco. Nel tondo si tratta di Maurizio De Gasperis. Il rogo dopo l'incidente sulla 1 tra Orvieto e Fabro. E poi, sempre a L'Aquila, addio al notaio. Battaglia, guidò la Carispac. Calcio, rosso-blu, rimpallo in Federcalcio. Rispunta all'incubo della prima categoria per L'Aquila Calcio, dopo che il commissario Figgici Fabricini ha nuovamente ridato la palla al comitato Abruzzo. Casini ci ripensa. Siamo a Sulmona. Dimissioni ritirate. Il sindaco resta in sella. Oggi consiglio comunale senza l'opposizione. Cambiamo testata. Siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo che apre con la politica. Elezioni al via le manovre. L'assessore Paolucci. Il PD non deve indicare il candidato ma a favorire un ampio schieramento. Forze Italia e Lega provano a recucire lo strappo di Bellachioma. Poi gli incontri con Fratelli d'Italia e Udc. Sotto la testata a Martinsicuro. Nozze in spiaggia. Possibile sposarsi in cinque stabilimenti. Serie D. Le abruzzesi con il Cesena. Il girone a venti squadre. Ieri sono stati diramati appunto i gironi. Il prossimo 8 settembre sarà il momento dei calendari per C e D. Sempre per il calcio. Pescara. Il patron soddisfatto. Teramo. Fideiussione da rifare. Sebastiani afferma che il delfino darà fastidio a molte squadre. Bilancio ok. L'Aquila. Fabricini smorsa le ambizioni della nuova società. Prima categoria. E poi di spalla. Leggiamo. Cresce l'export dalle auto alla chimica. Numeri positivi. Il primo trimestre dell'anno si è chiuso con un 7% in più. Siamo alla fotonotizia. Perdonanza. Numeri da record. Mobilitate 100.000 persone. Questo è un momento della perdonanza. Il momento saliente. Attimi prima dell'apertura della Porta Santa. E poi in taglio medio la polizia. niente posti fissi per fermare gli stupratori. Violenza alla stazione. La questura non accoglie le richieste del sindaco. E poi festa delle penne nere. Arrivano 2.000 alpini a penne. Poi ancora a pacentro a piedi nudi sulle rocce nella corsa degli zingari. Ormai un rituale che si ripete a pacentro. Siamo sulla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo che apre così. Sprint a tempo per la ricostruzione. La regione assumerà 15 tecnici in più all'ufficio speciale per la ricostruzione. Ma solo a fine dicembre quando scadrà l'emergenza. Effetto Genova. La ricognizione a Teramo. Ponte in sicurezza. Servono 30 milioni. Poi sempre effetto Genova. Autostrade. La CGL chiede di sbloccare i fondi per la 24. La foto notizia. Pattuglia abruzzese. Sul fronte Miss Italia. Tre terramane ammesse alle prefinali di Jesolo. Di spalla a Giulianova. Morì investito sulle strisce. Scagionati i lampioni. E poi ancora nessun caso a Roseto. Selezione. Errore ammesso dalla dipendente. Poi un tunnel in galleria sulla 14. Stamattina apre la soluzione per ridurre le lunghe code. E poi tre richiami a piedi pagina. Intanto sul fronte dell'impiantistica a Teramo. Stadio Bonolis. Teramello e Palasca. D'Alberto. Studia doppie soluzioni. Politica. Francia di Teramo 3.0. A processo per un articolo sull'alleato Mariani. Il caso. Caos sulle fiduzioni. Il Teramo era in regola. La prova in una lettera. Lasciamo le prime locali. Andiamo a vedere ora le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Il nuovo partito di Salvini. Svolta nel centro-destra. E su pensione e reddito. Parte l'assedio a Tria. Alberto Brambilla con i pieni di 5 stelle. Salta il sistema. Migranti. Nessuna intesa in Europa. E poi ancora in taglio medio. Fatto davvero scalpore questa immagine. Ieri. E alle 14.50. Crollò il tetto della chiesa vicino al Campidoglio. Non ci sono vittime. E poi sempre per la cronaca in taglio medio. Como. Violenza di gruppo su due turiste 17 anni. E poi altro caso a Parma. Preso un commerciante. Prima pagina di Repubblica. con. Prima abbiamo visto la foto dall'alto. Del crollo della chiesa. Qui invece una foto dall'interno. E quel che resta. Della chiesa vicino ai fori. Vicino ai fori. Ecco qui. Paura ai fori. Crolla la chiesa dei matrimoni. La chiesa di San Giuseppe. Dei falegnami. E poi ancora. In taglio medio. Sprede. BTP. Alto rischio. Asta di Frigile per i titoli di Stato. Come non succedeva dal 2014. Oggi arriva il rating di Fitch. Governo pressing dei grillini su Tria. Deficit al 2,9%. Per avviare il reddito di cittadinanza. In basso vertice. Toti. Autostrade. Genova. Nuovo ponte leggero. Meno piloni. Nessun tirante. Il progetto sull'idea di Piano. E poi la storia. Riace la vittoria di Saviano. Il sindaco, il Viminale, sblocca i fondi per aiutare i rifugiati. Siamo ora sulla prima pagina del fatto quotidiano. In Veneto. La Lega vuole la pedemontana. Peggio di autostrade Benetton. Salvini e Zaia assieme sulla futura arteria. E il movimento protesta. Fronte del ponte di Genova. Lavori in fretta. Le cinque lettere che inguaiano concessionari e ministero. In taglio medio migranti. L'Europa se ne rifrega. Noa. Rotazione di porti e sbarchi. Respinta la proposta italiana di riforma della missione Sofia nel summit di Vienne. Poi il dossier del fatto. Il patto ai numeri. Calcio in tv. La strana stampella di Sky che tiene in piedi Dazon. Avanti ancora. Siamo sulla prima pagina di Libero. Un pernacchio a Macron. Salvini se ne infischia dell'Eliseo. Il francese ci ha rifilato 40.000 clandestini. E boccia la nostra richiesta di ruotare i porti d'accoglienza dei profughi. Poi ci sfotte. Si autonomina al leader europeo dell'antileghismo. Un rivale così spocchioso. E una manna. Quasi 20.000 firme a Libero per il ministro. Follia. C'è chi vuole fargli pagare i danni ai migranti. Poi la fotonotizia a Genova serve più sicurezza che l'estetica. Il ponte di piano non va lontano. C'è anche la rima. Sul messaggero. L'apertura spread. Il governo gioca d'anticipo. Salita del differenziale con i Bund. Balzo dei rendimenti BTP. Pesano sui conti pubblici. Tria di intesa con Di Maio e Salvini. Accelera la revisione del DEF per rassicurare i mercati. Sotto la testata. Lo sport. Sorteggi Champions. Alla Roma tocca il Real. Ma il girone non è duro. E oggi la sfida al Milan si apre. Infatti la terza giornata di campionato. Di Serie A proprio con l'anticipo di San Siro. Tra Milan e Roma. La fotonotizia. Crolla il tetto della chiesa. Brivido ai fori. San Giuseppe dei Falignami. L'altare dei matrimoni. Domani ne era previsto un altro. Nessun ferito e niente danni al carcere di San Pietro sotto il balcone della Raggi. E poi di spalla. Vertice di Vienna. Flop sui migranti. Missione Sofia verso il fallimento. Decreto sicurezza. Arriva alla stretta per le spese dell'accoglienza. E poi in basso. La ballerina di 22 anni accusa di stupro Gerard Depardieu. La replica è falso. Siamo sulla prima pagina del mattino che apre con lo sport. Perché anche il Napoli era chiaramente coinvolto dai sorteggi di Champions. È un girone di ferro per la squadra di Ancelotti. Infatti sfida ai giganti. Nel girone ci sono il Paris Saint Germain di Neymar dell'ex Cavani. E anche il Liverpool di Salah, finalista nella scorsa edizione della Champions. Ecco qui. Gli azzurri pescano PSG, Liverpool e Stella Rossa. Ancelotti senza paura. Dura anche per gli altri. E poi ancora Napoli nell'esercito impunito dei parcheggiatori abusivi. Dal 2010 sanzionati 3.600 RAS della sosta. Nessuno ha mai pagato una multa. Gli incassi superano i 2 milioni al mese. Il record dei verbali sotto il municipio. E poi per la politica. Fico contro Salvini. Lontani da Orban. Il leghista Macron ha respinto 40.000 migranti. Accoglienza a rotazione. Non c'è intesa nell'Unione Europea. Avanti ancora siamo sul manifesto che apre con il titolo Fori Romani. Giocando appunto come farà anche il tempo. Lo vedremo tra poco sul fatto che si è aperta questa voragine sul tetto della chiesa. Crolla il tetto ligno del 600 della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami. A due passi dal Campidoglio nell'area dei Fori Romani. La soprintendenza come per il ponte Morandi di Genova non hanno tenuto i tiranti. Nessuno cura la conservazione. Un milione di euro di danni. E poi in taglio medio Sofia Italia verso la rottura. Profughe frontiere. Nessun accordo al vertice di Vienna sulla missione europea. Il sole 24 ore. Moscovici correggere i conti del 2019. Bene Tria. L'intervista al commissario agli affari monetari Pier Moscovici. Costruttivi nonostante i toni ma per l'anno prossimo il deficit va ridotto. Il 3% è un tetto. Andare oltre provocherebbe difficoltà che non voglio immaginare. E poi la fotonotizia centropagina. Spettro crisi in Argentina. Tassi al 60%. Il peso crolla ai minimi sul dollaro. Nuova stretta della banca centrale. Poi BTP rendimenti al 3,2%. Ma la richiesta resta alta. Lo spread balza a 287. Collocati 6 miliardi di titoli a 5-10 anni. Tesoro. Acquisti dall'Italia e dall'estero. Siamo sulla prima pagina della stampa. Def Tria rivede i conti di Di Maio. Il deficit salirà ma non oltre l'1,5%. Intervista con Boccia di Confindustria. Il governo passi dalla fase adolescenziale a quella adulta. Il tesoro vuole 10 miliardi in più di flessibilità. Oggi il giudizio dell'agenzia di rating Fitch spread a 285. Poi anche sulla stampa trova spazio la notizia del crollo del tetto della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami a Roma. Paura a Roma. Crolla il tetto della chiesa dei fori imperiali. Avanti e siamo sul tempo. E anche qui, come vi ho preannunciato, si parla di foro romano. Crolla la chiesa di Falegnami proprio sotto il Campidoglio, luogo di matrimoni ed esorcismi. Sfiorata la strage, ho visto il tetto venire giù. E poi nell'articolo di Matteo Vincenzoni, mai così in basso, tutto cade a pezzi. In taglio medio, così com'è, il sistema delle concessioni non va, parla il presidente dell'ANAC. Cantone, squilibrio pubblico-privato, avrei voluto cancellare la legge obiettivo. E di spalla, sorteggio Champions, la Roma trova il Real Madrid, ma va bene così. Girone ok in Champions, oggi il Milan. Siamo alla verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che apre così i conti in tasca d'Auxilium, gli affari d'oro della Copp Cattolica, che ha preso i migranti del Diciotti. Finanzia il giornale dei Vescovi e, grazie all'accoglienza, fattura la bellezza di 60 milioni di euro. Il suo dominus è Chiorazzo, plurindagato e pluriarchiviato. Di lui, Buzzi e Carminati dicevano, è in una posizione di forza. E poi, al centro della fotonotizia, sapevo di McCarrick, cercarono di fermarmi. Intervista all'autore di Opzione Benedetto, Chiesa è gay, nodo decisivo. Viganò non è il solo a fare certi nomi. E poi, in basso, dopo il voto, l'ultimo regalo di Del Rio a Benettona, ad aprile, sia l'aumento dei pedaggi del 4,6%, da qui al 2038, in cambio dei lavori della Gronda di Genova. E andiamo a chiudere con la prima pagina dell'Avvenire, che apre così a mani chiuse. UE divisa sulla missione antitratta dei migranti. Lascerà le acque della Libia anche l'ultima ONG. L'Italia ora minaccia di uscire dall'operazione Sofia. Altre scintille Salvini-Macron su respingimenti e frontiere e ruolo europeo. Possiamo lasciare le testate nazionali, torniamo alle locali. Lo facciamo con le pagine del centro. Pagina 2 in particolare. Il patrimonio da salvare, il turismo d'Abruzzo, riparte dalle miniere. Centinaia di gallerie diventeranno un geoparco da visitare. Sono 20, tutte nel parco della Maiella, nei territori di ben 11 comuni della provincia di Pescara. Poi andiamo in basso, viadotti A24 e A25. Fate presto l'appello denuncia del sindacato CGL. Va dai lavori ai pedaggi troppo cari. Poi qui troviamo altri scatti di quelle che erano miniere e che ora possono diventare dei luoghi da visitare. In basso, niente lavori per il ponte a rischio. Ha sattrezzato un incontro, va a vuoto. Il sindaco di Chieti scarica sul consorzio. Andiamo ora avanti. Siamo alla pagina Abruzzo, pagina 12. i collegamenti con l'Europa. Dall'Abruzzo a Bucarest torna il volo. Sarà operativo alla fine di ottobre per due volte alla settimana. Partiti i lavori per rendere l'aeroporto più accogliente. A tal proposito andiamo a vedere il servizio realizzato dal TG6 sul ripristino del volo per Bucarest. Assessore, questo nuovo volo dall'aeroporto di Pescara per Bucarest e per la Romania rappresenta un'ulteriore occasione di crescita per il movimento turistico della nostra regione? Principalmente un volo business. Però è chiaro che dietro al business c'è anche il turismo, nel senso che comunque già solo chi viene qui a Pescara, nel nostro territorio abruzzese, può notare le bellezze, restare qui, tornarci in vacanza, portare la famiglia, portare amici. Ma è anche esso stesso veicolo di turismo. Quindi è chiaro che certi sforzi poi devono essere aiutati. Io credo che insomma dobbiamo marciare uniti, credere nell'Abruzzo tutti insieme e magari qualche volta con un pizzico di elasticità in più non impedire fatti importanti per la nostra economia. L'occasione della presentazione del nuovo volo per Bucarest e per la Romania rappresenta anche l'opportunità per un primissimo bilancio dell'estate per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo, numeri sempre positivi. Diceva lei in conferenza stampa abbiamo più passeggeri dell'aeroporto d'Ancona con la metà dei lavoratori. Questo cosa significa? Sì, è proprio vero. Abbiamo più del doppio dei passeggeri di Ancona. Noi abbiamo su 650 mila, loro stanno a poco più di 300 mila, loro hanno un centinaio di dipendenti, ho fatto un incontro tempo fa proprio per assaggiare queste potenzialità, con un centinaio di dipendenti fanno 300 mila e passa passeggeri. Noi ne facciamo 650 con 48 dipendenti, 49, adesso non vorrei che il dato mi sfuggisse di uno. Questo è un grande fatto positivo perché vuol dire che, come dire, tirando la cinghia al massimo, economizzando al massimo, otteniamo il massimo dei risultati. Avete anche parlato di novità anche dal punto di vista infrastrutturale che ci saranno per l'aeroporto nei prossimi mesi? Sì, prima di tutto perché il centro commerciale finalmente sta finendo, abbiamo dato una bella accelerata ai lavori che hanno un po' il rilento. E quindi noi nel mese di settembre, fine settembre, speriamo di inaugurare la Business Room, che sarà un centro affari con i servizi adeguati, quindi rent car, parcheggio, aeroplani, collegamenti, per cui un manager, un imprenditore, chiunque potrà venire qui, fare gli incontri di lavoro, d'affari, poi affittare la macchina o riprendere l'aereo, parcheggiare o andare alla stazione in un posto comodo, rapido, con tutti i servizi. Avremo il Comune di Pescara con l'ente manifestazioni che ci ha scritto, optando, opzionando un box importante per fare un centro di informazione, di promozione delle attività, degli eventi, vendita a biglietti. Abbiamo il Comune di Pescara che sta rifacendo il manto stradale della Tiburtina esterno per quello che gli compete, il Comune di San Giovanni che sta per partire anche lui per fare la sua parte tramite i rapporti con Terna, eccetera. Quindi avremo una Tiburtina, nel giro di un paio di mesi, avremo una Tiburtina nuova qua davanti che ci permetterà rent bike, biciclette, moto, un'agibilità di altro genere. Quindi stiamo cercando di sviluppare l'aeroporto da tutti i lati, non solo gli aeroplani, le tratte, i passeggeri, ma il centro commerciale, i servizi, la comodità, l'assistenza ai passeggeri. Proseguiamo sempre sulla stessa pagina, pagina 12 del centro. L'export salva la nostra economia. Nel 2017 le imprese della regione hanno esportato merci per 9 miliardi di euro. Siamo alle pagine di Pescara, la strada parco cade a pezzi, pali pericolanti, sfere rotte, buche, asfalti, gibbosi e sporcizia, viaggio nel degrado del corridoio verde amato dai pescaresi. Qui vediamo alcune delle foto che mostrano l'asfalto in condizioni pessime, il che rende non facile la percorribilità, in particolare per chi usa le due ruote. Ecco altri scatti che ritraggono la situazione dell'asfalto. E poi ancora la tua spinge per i mezzi a metano, dalla ferrovia alla filovia, fino ai bus elettrici, tutte le vite della strada parco. E poi fronte smaltimento rifiuti, Pescara, casa tua, a parte la campagna di sensibilizzazione, raccolta differenziata anche nelle scuole, porta a porta nel piano del comune. Andiamo avanti, vicini troppo rumorosi, denunciata l'Ater, i condomini di Via Moro contestano la presenza insopportabile di una famiglia in quell'appartamento, chiasso continuo. E poi ancora la cronaca a Londra con i documenti falsi, arrestato, in aeroporto si spaccia per un foggiano 28enne ma non sa l'italiano, la polizia blocca il 18enne albanese. E poi ancora siamo appunto al commegno che ha ricordato il giudice Emilio Alessandrini, il sindaco ricorda il padre, lo rivivono i suoi scritti al Museo delle Genti, buon compleanno Emilio, il figlio Marco onora il magistrato, applausi e commozioni in sala, il presidente del CSM Legnini è stato un eroe. Pagina 28, scuole 12 milioni per intervenire negli istituti superiori, i fondi della regione per Marconi, De Cecco e Mantonè, le parole del presidente della provincia di Marco, ora aspettiamo le somme per l'antincendio. Pagina di Montesilvano, fronte refezione scolastica, Mense dopo 10 anni cambia il gestore, l'appalto da 4,2 milioni vinto dalla serenissima ristorazione di Vicenza che batte la Cirfood con un ribasso del 9,29%. La nuova ditta si occuperà del servizio fino al 2023, le famiglie continueranno a pagare da un minimo di 2,5, un massimo di 4,2 euro a pasto a seconda del reddito Isee. E poi in taglio medio, pasti e trasporti, ecco come iscrivere i figli, le domande vanno presentate insieme al modello Isee, il servizio scuolabus da 15 a 28 euro al mese, chiaramente siamo in prossimità della riapertura delle scuole. E poi in basso a case popolari, via condannati e spacciatori, il sindaco annuncia l'entrata in vigore dei nuovi criteri di assegnazione, e gli alloggi alle persone oneste. Così ha disposto il sindaco di Montesivano, Francesco Maragno. E poi a Spoltore è stata una giornata di dolore, quella di ieri, folla per l'addio a Maria Grazia, amata da tutti. A Villa Raspo, ai funerali della Donofrio, deceduta a 49 anni, il dolore dei familiari e il cordoglio della Croce Rossa, era appunto una volontaria, la donna scomparsa mentre era in vacanza a Catania. Proseguiamo e siamo a Francavilla, porto di Francavilla, il comune al lavoro per appaltare l'opera. Il sindaco Luciani punta a finire per la prossima estate, ma serviranno altri fondi per le opere a terra e la piazza. A Penne, senza medici, chirurgia rischia lo stop, all'ospedale manca il personale, 25 posti persi nel giro di pochi anni, anche il pronto soccorso in emergenza. Le pagine di Chieti, viabilità a rischio in città, crepe, buche, fossi, il viadotto fa paura, si aprono squarci sul cavalcavia Gran Sasso, i rilievi di un ingegnere lanciano l'allarme, la collina Frana, palazzi lesionati. Poi ancora di spalle, nozze celebrate in ritardo, gli sposi citano il comune, il comune di riferimento in questo caso è quello di Ortona. Siamo a Ripa Teatina, l'omicidio di città del Messico, Fabio, indagini su telefonino e computer, sequestri della polizia nella discoteca, di cui il 33enne era il direttore, resta in piedi la pista del delitto passionale. Pagine di Tenamo, l'inchiesta dopo il terremoto, chiesto il processo per 20 furbetti, la procura li ritiene responsabili di aver intascato il contributo per l'autonoma sistemazione senza averne diritto. Accertamenti sono stati fatti non solo nel capoluogo, ma anche in altri centri duramente colpiti come Montorio e Isola del Gran Sasso e poi le accuse dei PM. A tutti viene contestata la truffa aggravata ai danni dello Stato, in alcuni casi coinvolti interi nuclei familiari. In basso ponti servono 7 milioni per i lavori, 10 quelli controllati dal comune, il comune di Tenamo, non hanno problemi di staticità, ma urge la manutenzione. E a Giulianova, raid al Lido, incappucciati assaltano il gazebo della Lega, rovesciata la struttura che finisce addosso a un ragazzo disabile. Il coordinatore Mastrilli è stata un'azione da vigliacchi. Poi tornando a Teramo, arretrati, futuro incerto, le bidelle protestano. Ieri sit-in del personale addetto alle pulizie delle scuole con la ditta Experia, Cisle CGL, ora cambia l'appalto e loro devono percepire. Ancora ore non pagate. Siamo a Pineto, ascensore fermo, il sindaco protesta con le ferrovie dopo il caso dell'uomo che ha dovuto portare in braccio la figlia disabile. La mancata attivazione rende la stazione impraticabile a chi è in carrozzina. E ora le pagine dell'Aquila. Il comitato giro d'affari da 10 milioni. Il consuntivo della perdonanza spesi 350 mila euro con 40 mila per De Gregori e 32 mila per Jesus Christ Superstar. Poi ancora, secondo gli organizzatori, sono 100 mila le presenze stimate per i vari appuntamenti della settimana dedicata a Celestino V e all'indulgenza plenaria. L'assessore di Cosimo, cominciamo ad aprirci al mondo. Questa è stata la mia prima creatura, un evento cui ho lavorato un anno con il maestro De Amicis. Poi in basso, a Sulmona, Casini, Ciri, Pensa e ritira le dimissioni. Il sindaco ammette, ci sono tante difficoltà, ma non posso lasciare la città al commissario. E poi ancora l'addio al notaio Battaglia, sempre all'Aquila. Guidò Carispac, si è spento 83 anni, l'ex presidente dell'istituto di credito retto per 14 anni. Il cordoglio del sindaco persona per bene. Poi in basso, sempre per la cronaca, l'autista si salva dal camion in fiamme. Nell'incidente sulla 1, Maurizio De Gasperis di Trasacco, portava ortaggi a Torino. È stato un inferno e in paese accende un cero a San Cesidio. Ecco qui l'autotrasportatore che l'ha scampata dopo l'incidente e l'inferno che si è scatenato sulla A1. Possiamo fermarci qui con la prima parte di mattino 6. Diamo lo spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi ci ritroviamo per vedere altri servizi, ma soprattutto per sfogliare Messaggero e la città. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine del Messaggero che andiamo a sfogliare. Avevamo visto in precedenza come l'apertura fosse dedicata alla politica e infatti andando a sfogliare il Messaggero siamo subito su questo fronte in vista delle prossime regionali. Intanto in evidenza c'è l'intervista all'assessore regionale Silvio Paolucci verso il voto. Paolucci, il PD, non deve indicare il candidato ma creare una alleanza. Schieramento più ampio possibile abbandonando rancori e divisioni. Il rischio è la deriva oscurantista già guidata dall'estrema destra. E poi ancora in basso ancora sulle dichiarazioni di Paolucci la data delle elezioni sono coinvolti tre livelli istituzionali mi rimetto a loro senza temere nessuna scadenza. E poi ancora sul fronte centro-destra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia prove d'intesa poi gli incontri ufficiali. In basso la CGL, il masterplan per A24 e A25. Ora le pagine della cronaca di Pescara sì ai controlli, no ai presidi fissi. La questura frena sulle azioni da adottare dopo lo stupro al terminal bus in città. Non c'è una emergenza sicurezza. Dopo l'annuncio di ieri un boccone amaro per il sindaco costretto a un parziale dietro front, ma tornerò alla carica. Le forze dell'ordine non hanno i numeri per poter allestire nuove strutture di sorveglianza nelle zone del centro. La priorità è quella di riuscire a pattugliare l'intero territorio, non alle risposte di pancia. Poi ancora niente case popolari a chi delinque. A Montesivano il sindaco Maragno vuol fare escludere dalle graduatorie i condannati per droga, usura e prostituzione. Poi in basso il giudice Alessandrini ucciso perché è democratico e riformista. Le parole del vicepresidente del CSM Legnini sul sito del CSM, gli atti desecretati del suo fascicolo l'omaggio degli amici per i 76 anni di Emilio. La città è casa tua, lo spot riattiva per Pescara Pulita. Video con le voci recitanti di Alessandrini e Marcheggiani. Awa, chi sti fa? Papa punta su educazione e formazione. Allora, eravamo presenti nella conferenza di presentazione di questa campagna di sensibilizzazione varata dal comune e da Attiva, la società che gestisce l'igiene urbana a Pescara. Vediamo. Assessore Marcheggiani, terminata l'estate o quasi, si guarda l'autunno, i prossimi mesi, oggi presentate una nuova campagna per quanto riguarda la pulizia della città, ovviamente con la municipalizzata attiva. Sì, certo, è una campagna di comunicazione molto complessa e ben articolata, che in generale parte dal discorso che bisogna educare i cittadini a dei buoni comportamenti. Sono stati fatti degli studi, sono state individuate le criticità e su questi atteggiamenti non corretti abbiamo insistito creando degli spot che poi andranno sui social, saranno divulgati in qualsiasi maniera e che mirano ad educare nel cambiare determinati atteggiamenti sbagliati. La città è di tutti noi e quindi il decoro della città è un patrimonio che aspetta ognuno di noi preservare e conservare attraverso dei comportamenti che sono virtuosi, tra virgolette, che sono quelli che noi qui in questo filmato abbiamo voluto in qualche modo, come dire, sottolineare e evidenziare un po' con una campagna che utilizza un audiovisivo, insomma, no? Quindi buttare le cicche per strada, lasciare che i propri cani lasciano le deiezioni lungo il marciapiede senza raccoglierle, buttare degli ingombranti in maniera inconsulta sui marciapiedi o per le strade sono comportamenti che non contribuiscono ad andare verso il miglioramento del decoro della città e soprattutto non lo faremmo mai in casa nostra e così dobbiamo fare in una città che è casa nostra. Sempre sul messaggero Penne abbraccia gli alpini tre giorni di eventi fino a domenica per il raduno regionale d'Abruzio le grazie del sindaco Semproni sono un grande sostegno per il comune domenica alle 9 l'attesa sfilata e poi a Spoltore, Girasoli e Bandiera della Croce Rossa per l'addio a Maria Grazia Donofrio le pagine dell'Aquila ex psichiatrico al comune la ASL vuole essere pagata con l'emaggio il manager Rinaldo Tordera boccia la proposta del comodato gratuito l'azienda sanitaria si fa avanti invece per la realizzazione del parco della Luna l'edificio è dismesso dovrebbe ospitare gli uffici municipali Stefano Palumbo del PD è stato perso troppo tempo dice poi ancora in basso Rex Lab crescere grazie allo sport e poi in questo evento Getsisti contro Amatrice e Aquila incassi per due borse di studio e poi ancora anche sul messaggero si traccia un bilancio della 724esima edizione della perdonanza evento super numeri da record contatti boom da social tv e radio audience dai 5 milioni l'idea è ora di strutturare un appuntamento semestrale resta da sciogliere il nodo dei finanziamenti più corposi ricadute positive anche per le attività economiche locali almeno 100.000 persone hanno partecipato a una manifestazione ma manca una struttura chiusa e ci sono anche le parole ovviamente del sindaco Biondi la sua soddisfazione sobrietà, qualità e la grande partecipazione il sindaco entusiasta non abbassa la guardia cercheremo di migliorare avanti ancora siamo in Marsica all'INI arrivano i soldi regionali scongiurata la chiusura il direttore generale dell'ASRA rassicura tutti a breve verranno assegnati pure gli arretrati ma scoppia il centro di Capistrello dopo lo stop a Lecce il fermo giudiziario di Mediasalus intasa la struttura rovetana un lavoro di analisi portato avanti celermente per creare le condizioni per erogare le indennità siamo alle pagine di Chieti lavori in piazza San Giustino arrivano anche gli speleologi gli esperti scenderanno nell'ipogeo del 1600 scoperto durante i lavori saranno fotografati i locali sotterranei poi l'area degli scavi verrà ricoperta domattina al via l'ispezione voluta dall'assessore Raffaele di Felice per il mosaico c'è da aspettare poi per la cronaca di spalla leggiamo umiliano un 13enne denunciati tre giovani bulli in basso cavalcavia a rischio diffidato il consorzio deve intervenire blitz del sindaco di primio se non lo fa chiederò di chiudere l'assattrezzato siamo a Lanciano l'acqua è gratis per gli indigenti la Sasi attiva il bonus per gli utenti più poveri i moduli già disponibili su internet ecco chi avrà le agevolazioni la Caritas invece paga le spese di affitto e di sfratto a oltre 30 famiglie gli interventi sfiorano i 50.000 euro 7.000 persone hanno chiesto aiuto al diocesi cresce il numero degli italiani in difficoltà e poi sempre a Lanciano corteo del mastro giurato ufficializzate le 8 dame proseguiamo e siamo sulle pagine di Teramo ponti sono tutti stabili ma nessuno è antisismico la situazione delle strutture municipali nel report del sindaco servono 6 milioni il guado di Carapollo non può più essere utilizzato lunedì vertice tecnico in prefettura l'ingegnere capo Pierluigi Manetta ha l'incarico di reperire i dati tecnici nei vari enti di spalla capo di gabinetto salta la nomina per un errore qui siamo a Roseto degli Abruzzi la commissione esaminatrice non ha controllato la regolarità della procedura tecnica in basso la rivolta delle bidelle precarie stabilizzateci fanno parte della cooperativa Esperia prendono 300 o 500 euro al mese manifestazione sotto il provveditorato e a Giulianova spaccia droga il datore di lavoro lo licenzia doppia disavventura per un operaio giugliese finito in carcere per detenzione di eroina perde il posto e niente arresti domiciliari respinta la richiesta dell'avvocato di Gian Domenico il processo in tribunale è stato fissato al 29 di ottobre resta a Castogno anche la moglie su decisione del giudice sempre a Giulianova soffia forte il vento della solidarietà in volo 100 aquiloni per Genova bella manifestazione mentre vigili e finanza fermano gli abusivi questo è uno scatto della manifestazione che si è tenuta ieri a Giulianova cambiamo testata e passiamo ora sulla città il quotidiano della provincia di Teramo siamo appunto nella città capoluogo si parla di ricostruzione 15 tecnici in più alla ricostruzione la regione attingerà al consorzio Formez del terremoto aquilano del 2009 ma sarà solo un rinforzo a tempo l'impegno preso ieri dal presidente facente funzione della regione Lolli davanti ai sindaci del cratere riuniti in provincia poi ancora in basso lavori antisismici urgenti fondi bloccati al MIT per strada dei parchi la CGL abruzzese raccoglie l'allarme lanciato dal concessionario e chiede investimenti in sicurezza per A24 e A25 ancora effetto Genova il comune non ha risorse per rendere i ponti sicuri lo studio preliminare è impietoso per sistemarli occorrono 7,5 milioni per renderli antisismici ne servono 30 nonostante la vetustale tecniche di costruzione e le scosse di terremoto già patite nei decenni dal punto di vista statico i ponti terramani sono considerati sicuri e allora possiamo andare a vedere il servizio realizzato ieri dal TG6 nei tempi previsti il comune di terramo ha inviato al ministero dei trasporti e delle infrastrutture la relazione conclusiva sulla ricognizione effettuata dei più importanti ponti cittadini 100 le infrastrutture da monitorare e 10 le priorità sulle quali intervenire a breve periodo le cifre dei fondi necessari variano dai 7 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria ai 35 milioni per gli adeguamenti sismici intanto per ponte San Gabriele di competenza ANAS sono stati già stanziati dalla società 9 milioni di euro la buona notizia emersa dall'indagine tecnica è che ponti e viadotti comunali non presentano problemi di staticità difficilissimo secondo il sindaco di Terramo Gianguido Dalberto è stato però reperire i progetti definitivi dei ponti a causa di una disorganizzazione nello scambio di dati tra enti competenti che va assolutamente colmata sì ovviamente è uno studio preliminare che segue ai sopralluoghi che abbiamo fatto l'indomani purtroppo della tragedia di Genova ma che ci consente in primo luogo di rispondere nei tempi previsti alla richiesta del ministero che ha avviato questa fase di controllo e ci consente soprattutto di porre le basi per un'anagrafe complessiva piena di ponti e viadotti del nostro territorio che ovviamente non si fermerà solo a ponti e viadotti ma sarà allargata a tutte le opere infrastrutturali soprattutto quelle strategiche per il nostro territorio purtroppo dopo la tragedia di Genova ad avviare questo importante studio e questa importante procedura per una ricognizione delle opere infrastrutturali del nostro territorio però ovviamente a questo punto va bene l'informazione va bene la conoscenza i dati noi risponderemo nei tempi senza lamentarci però dobbiamo anche mettere a disposizione risorse che sono fondamentali per intervenire sul nostro territorio eccole dunque le dieci priorità presentate dal Comune di Teramo al Ministero delle Infrastrutture Ponte San Francesco Ponte San Ferdinando Ponte sul Torrente Messato Viadotto Cartecchio Ponte Cona Ponte Apporto Ponte Accatena con sostituzione anche del Guado di Carapollo Viadotto De Gasperi Ponte sul Fosse Ciappato Muro Via De Gasperi sono stati esaminati questi ponti sia dalla data di costruzione ai giorni nostri ci è stato dato una scaletta di priorità breve meglio a lungo tempo di interventi da effettuare su questi ponti Un preventivo di spesa per aggiustare questi ponti l'avete già? Sì l'abbiamo già è decisamente consistente quindi confidiamo perché noi come Comune non potremmo intervenire per quanto riguarda lo straordinario in questo momento quindi aspetteremo i bandi l'intervento da parte del Ministero delle Infrastrutture sulla città pagina 8 l'argomento è quello degli impianti sportivi nel Comune di Teramo lavoriamo su due orizzonti temporali il sindaco impegnato sull'emergenza dell'avvio dei campionati e su buoni accordi per il lungo periodo ci sono poi delle priorità accordo per il Bonolis tra Cantagalli e Campitelli sistemazione acqua viva e soluzione sostenibile per il Palas Capriano poi ancora pagina 9 Francia ha processo per un articolo su Mariani il giudice veneziano rigetta la richiesta di archivazione del PM e chiede l'imputazione coatta per diffamazione avanti ancora siamo alle notizie della Dalla provincia tre terramane alla conquista di Miss Italia Alice da Giulianova Alessia da Basciano e Sara da Teramo alle prefinali nazionali di Jesolo ad accompagnare a Jesolo Miss Abruzzo la 24enne di Chieti e Antonella Graziani ci saranno altre nove Miss premiate durante le tappe delle selezioni regionali avanti ancora siamo a confine appunto tra Abruzzo e Marche con l'incidente grave che si è verificato un incendio in un tunnel nei pressi di Grotta Mare ebbene un mini tunnel in galleria per liberare l'autostrada 14 stamattina riapre la corsia danneggiata dall'incendio del tir del 23 agosto e dunque dovrebbero diminuire le code chilometriche sull'autostrada ma i tir continueranno a transitare sulla SS 16 a Giulianova morì investito sulle strisce lampioni scagionati per la procura la responsabilità le responsabilità sono riconducibili unicamente alla condotta di guida dell'investitore pagina 18 bagordi notturni nella riserva le guide del borsacchio denunciano l'assenza di controlli dopo le segnalazioni restiamo a Roseto nessun caso sulla selezione ma errore evitato concorso da capo di gabinetto annullato per un vizio ammesso da un dipendente comunale non del sindaco un ex assessore dovrebbe sapere che il sindaco non può occuparsi di scegliere la rosa dei candidati da qui passiamo alle pagine dello sport della città ecco qui pagina 25 caos fidei usioni il teramo contrattacca ecco il documento del 12 luglio della Covisoc che attestava come il diavolo fosse in regola questo è il documento in questione che sostanzialmente dava il là all'iscrizione alla regolare iscrizione del teramo al campionato di serie C Capitelli risponde alla tegola pronti a produrre una nuova fideiussione bancaria ma è paradossale che prima ci hanno dato il via libera e poi hanno deciso che i documenti non andavano bene ricordiamo che le società di calcio che hanno fatto l'iscrizione attraverso la fideiussione con la Finworld sono costrette ora a rifare la fideiussione su disposizione del commissario della Federcalcio Fabricini e hanno tempo per rifare la fideiussione un mese circa fino al 28 di settembre se così non sarà multa da 300 mila euro e 8 punti di penalizzazione in campionato serie D niente Bari ma c'è il Cesena nel gruppo F sorteggiati i raccruppamenti di serie D 20 squadre e le abruzzesi inserite con Romagna Marche e Molise il prossimo 8 di settembre si conosceranno anche le giornate del campionato di serie D diamo lo sguardo alle testate nazionali sportive chiaramente grande spazio ai sorteggi di Champions ecco qui la gazzetta dello sport Juve e Roma in paradiso Inter e Napoli inferno Allegri sfida a Mourinho e incrocia i non irresistibili Valencia Young Boys De Rossi e compagni trovano il Real Madrid oltre a Cesca Mosca e Victoria Pölzen poi girone di ferro per Spalletti e Ancelotti il nerazzurro per Scamessi Tottenham e PSV Carletto Rischia con il PSG di Neymar il Liverpool e la Stella Rossa di spalla il Milan cerca di rialzarsi e di fra inteso come di Francesco pensa a Dzeko e Schick in vista dell'anticipo di questa sera tra Milan e Roma e poi l'Atalanta che è fuori dall'Europa League decidono i rigori l'Atalanta beffata è fuori dall'Europa dopo il doppio 0-0 con il Copenaghen i rigori hanno dato il verdetto a favore della squadra danese il Corriere dello Sport che associa il sorteggio della Champions a dei titoli che sono da calciomercato Pogba alla Juve Cavani a Napoli Modric a Roma messi all'Inter come a simboleggiare alcune delle stelle delle squadre principali che sfideranno le italiane nei rispettivi gironi durissima per Ancelotti e Spalletti Allegri e Difra più fortunati Ronaldo non premiato ha dato buca ieri non si è presentato a Monte Carlo e poi Brucia San Siro gioco di parole con un paio di canzoni per presentare la partita di questa sera tra Milan e Roma Gattuso dice Iguain e Biglia fondamentali e non sputo sui miei giocatori Difra segue una grande risposta e prepara il 3-4-1-2 con Schick e Dzeko e poi sempre riferimento a quanto vi abbiamo riferito poco fa sul fronte Teramo stesso rischio del Teramo lo corrono Palermo e Lecce che appunto rischiano il meno 8 bocciate le fideiussioni dei due club la Federcalcio a dato tempo fino al 28 di settembre poi Formula 1 scatta la tre giorni di Monza fetta il carico Lewis ritarda tutto sport CR7 contro tutti ritrova il nemico Murigno diserta l'evento di Monte Carlo buon sorteggio per la Juve che difende la scelta del portoghese di non presentarsi alla consegna dei primi Champions a Modric il riconoscimento UEFA poi una serie di richiami sotto la testata Inter Brivido Messi Roma può sorridere fa paura solo il Real Napoli è durissima Carletto pensaci tu Atalanta ora riparti e riprenditi l'Europa rapidamente lo sport sulle testate locali siamo sul centro parla il capitano ovvero Gaston Brugman sogno la seria con il Pescara quest'anno prima la salvezza poi vedremo dice Brugman in basso leggiamo allo stadio con educazione ecco il regolamento dal 2017 in vigore il codice di condotta i tifosi che lo infrangono rischiano il daspo sportivo poi altri passaggi qui della lunga intervista realizzata ieri da Gaston Brugman nella redazione del centro serie C Teramo Grana Fideiussione piace fornito del Catania la società tempo fino al 28 settembre per cambiare la documentazione presentata per iscriversi al campionato nel mirino la mezzala dei siciliani poi in basso serie D tutti a caccia della corazzata Cesena Girone F a 20 squadre i blasonati bianconeri con le 6 abruzzesi meglio i romagnoli che il Bari andiamo ora sul messaggero Abruzzo ecco lo sport con le parole del presidente del Pescara Daniele Sebastiani questo Pescara darà fastidio il presidente si gode della partenza positiva su tutti i fronti approvato il bilancio al 30 giugno in arrivo l'acquisizione del Poggio poi le parole di uno dei soci della Delfino Pescara Vittor Mesa toccata e fuga dall'Uruguay bilancio positivo poi in basso per la serie C Teramo la fiduzione è da rifare la federicalcio boccia la società Finworld il DG Capaldi per la Coviso che era ok e adesso valutiamo di andare a giudizio e poi la serie D Abruzzesi c'è il Cesena Girone a 20 squadre un'altra nobile decaduta è stata inserita ma non si tratta del Bari Bartolini Giulianova punterà ora la salvezza Rachini è più stimolante Cudini tecnico del San Nicolò Notaresco tasso tecnico superiore altre reazioni Bolami il patron della Vastese la Vastese non teme nessuno la squadra non subirà alcuna modifica e poi il presidente dell'Avezzano Paris l'Avezzano ora non è favorito bene l'obiettivo resta quello di migliorare il vecchio terzo posto e chiudiamo con il basket col paccio del Roseto acquistato Simonovic il centro di 2,12 e Montengrino dirigenza soddisfatta e poi tornando al calcio Fabricini il commissario della fede del calcio stoppa le ambizioni della nuova l'Aquila chiudiamo qui la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 le edizioni principali odierne alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 in regia ringrazio Claudio Di Giacomo e Marino Simone vi do appuntamento con la rassegna stampa di mattino 6 a domani ore 8 grazie per l'attenzione e buona giornata grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione